Io vi devo ringraziare i datori che hanno accettato di venire a parlare solo per cinque minuti. Ognuno di loro può parlare in un'ora, due ore. Un grande artista come Fibra e un corpo di passaggio. Le due mani sono come sappi e popoli e io le guardo convincendovi che è tutto un po' giocatore. È musicale che serviva per la danza, infatti la music è sia una danza che lo strumento che precedeva. E quando la cultura comincia a svilupparsi in maniera importante, non ha più animali di grande età. Puoi usare anche a metter, anche a metter, anche a metter. Queste sono immagini che vi colpiscono perché poi quando parliamo di una persona che è vittima di un arresto cardiaco e quindi è a rischio di una morte improvvisa, può capitare per strada, può capitare al supermercato, può capitare dentro un cinema. Ma poi quando capita nell'ambito di un evento sportivo, il capita proprio a uno sportivo, nel pieno della sua attività, ci colpisce molto questa immagine, queste immagini. Le vicende che riguardano le modificazioni di un paesaggio, che riguardano poi le professioni che lo determinano, però sono vicende che riguardano anche i cittadini e la loro capacità di capire, di comprendere certi spazi. Giannini chiama i suoi e dice questi fanno fibra e noi non l'abbiamo preso, inventiamoci qualcosa, inventiamoci qualcuno e gli portano un mondo marcio. Giannini ascolta queste robe di marcio e tira fuori un pezzo dentro la scatola. Dopo pochi mesi riescono a montare questa sorta di coppie Bartali del nuovo rap italiano e mettono insieme appunto un grande artista come fibra e un corpo di passaggio come marcio, che infatti la Emmy poi scaga immediatamente. Su ciò che ti offre, non cercare mai le risposte perché tanto non le avrai, non fare affidamento su quello che sai. In fondo un po' tutti vorremmo essere eroi, ma ci sono cose ben più grandi di noi. Una vita di apparenze e impellenze, una vita di esigenze trascurate, una vita di reticenze. Guidati dalla papuna cerchiamo di annullare la nostra natura, follia pura. Il rispetto secondo te a darmi del lei è lo stesso rispetto all'obreo, se fossi che io farai mente locale. Parliamo di una chiusura mentale a livello globale. Anzi no, anzi no, mi agito con quelli che lo fanno ma non lo sentono dentro. Amplifon per impazzire manca poco, in bilico tra la terza guerra mondiale e un altro gol in fuorigioco. Diserto, ma io vivere nel deserto, stando isolato, più che fare amicizia con l'esperto. In campo ma incoltivato, fatti una cultura, questo è un messaggio, è modera e linguaggio. Non sai che abbiamo più catene di andromeda, tipo il gas acceso, il troppo peso. Ebbene si attento che li diventi obeso, da che è di peso? L'amico scemo, la consegna di curriculum, chiamato anche lo sport più estremo. No, lo detesto, svegliarsi presto, resta connesso, chiedi permesso. Persone che spariscono, bisogna starci appresso. Adesso mai... What was that? She floats like a swan, grace on the water. Lips like sugar Lips like sugar And just when you think, you think that you've caught her She glides on water She comes for you in the night And just when you think, you think that you've got to be a fire, that you think that you've got to be a fire, and you think that you've got to be a fire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.